Sì, penso che abbiamo veramente fatto una prova di grande carattere, di grande cuore, perché nonostante l'inferiorità numerica siamo riusciti a passare anche in vantaggio e a mantenerlo fino alla fine della partita. Quindi l'unione oggi ha fatto veramente la differenza. Girando da di emozioni, primo il vantaggio del Napoli, il pareggio, poi l'espulsione che poteva vanificare tutto, invece il cuore dello Spezia è veramente andato oltre. Penso che siamo stati bravi a non abbatterci da quel gol subito, poi una volta che siamo riusciti a pareggiare sul rigore e ci abbiamo creduto, siamo stati molto bravi a crederci fino alla fine e poi a riuscire a mantenere il vantaggio con i denti. Raccontaci l'emozione però di vincere al San Paolo, è una vittoria che è importante per quello che è il valore, ma soprattutto per la classifica, Luca. Penso che sia la vittoria più bella dall'inizio del campionato perché vincere contro le grandi squadre dimostra sempre che abbiamo un grande valore sia qualitativo che di unione. E poi comunque per la classifica ci servivano incredibilmente questi tre punti e soprattutto per il morale perché abbiamo iniziato a vincere e ora dobbiamo cercare di non fermarci. Grazie a tutti.